Al primo banco di prova avete fallito, avete dimostrato come dietro la propaganda che avete raccontato in questi giorni, annunciando un decreto sul lavoro il primo maggio, siete persino incapaci di garantire il lavoro dei vostri deputati che dovevano essere qui a approvare lo scostamento di bilancio per approvare il DEF. Noi siamo basiti, ma soprattutto fuori il Paese, le persone, non si meritano questo spettacolo indecoroso di questa maggioranza.